A scanso di equivoci, non solo il comune di Trapani sarà presente alla BIT dentro il distretto turistico della Sicilia Occidentale, ma ci andiamo pure gratis e dopo la BIT ci sono altre fiere internazionali dove ancora una volta, grazie alla Regione, assolutamente dobbiamo dirlo, andremo gratis. Assessore Rosario è da lì. Sfatiamo le critiche, rispondiamo buonariamente, ma soprattutto per farlo capire ai cittadini. Ma certo, innanzitutto per amore di verità e per la giusta informazione ai cittadini trapanesi, ma non solo, di tutto il territorio. Noi come distretto turistico abbiamo da subito allacciato delle ottime relazioni con l'assessorato regionale. Da quando, devo dire, c'è l'assessore Messina c'è proprio un cambio di passo. L'assessore Messina, che abbiamo incontrato più volte, riconosce a questo distretto turistico un grande lavoro, un lavoro di promozione, di creazione della destinazione Trapani West and Sicily. ha conosciuto il nostro progetto, è venuto a Trapani e più volte, una volta addirittura, ha presieduto una conferenza stampa. Ha apprezzato il lavoro non solo del distretto, ma di tutti i comuni che hanno sottoscritto l'accordo e hanno anche messo le risorse economiche per creare questo grande progetto che è la creazione e promozione della destinazione. E non potendo più l'assessorato regionale al turismo dare contributi economici ai distretti da servizi, ma non a tutti. Della Sicilia c'è soltanto il nostro distretto turistico Sicilia Occidentale. Gli altri distretti non beneficiranno di queste opportunità. Quindi è un grandissimo risultato che abbiamo raggiunto. Cosa si concretizza? Si concretizza nella ospitalità, ma importante, all'interno delle fiere. Siamo stati già a Londra, a VTM, andremo alla BIT, ci hanno già assicurato la presenza alla fiera di Berlino e anche alla fiera di Mosca che si svolgeranno a marzo. E la nostra presenza non è un angolo, non è un cornere come qualcuno potrebbe immaginare, ma è una presenza importante. Abbiamo uno spazio proprio della Sicilia occidentale nel quale possiamo promuovere tutto il territorio, tra cui anche Trapani, gli eventi di Trapani, gli itinerari trapanesi, le bellezze, chiariamolo, ma siamo lì naturalmente anche a parlare di un territorio. Del resto è nella strategia di questo distretto voluto e sottoscritto dai comuni quello di ragionare in un'ottica di sistema, in un'ottica in cui io non promuovo solo la città di Trapani, ma promuovo tutto un territorio che è fatto anche delle bellezze di Erice, di Favignana, di San Vito, di Segesta, di Selinunte. Il turista oggi viene qua, si muove e ne approfitta per conoscere tutto un intero territorio. E quindi ci hanno dato questa grande opportunità. Ci ospiteranno in una conferenza stampa dedicata il pomeriggio di lunedì a questi territori, tra cui anche la Sicilia occidentale. Avremo uno spazio nello show cooking, perché un'area sarà dedicata al cooking show e uno lo dedicheranno proprio alla presentazione del nostro territorio e delle nostre specialità. Avremo anche visibilità perché loro monteranno un palco, così si esibirà, così come il Teatro Massimo, così come ci sarà un ceramista che realizzerà delle manufatti in ceramica al momento, ci sarà anche il gruppo folcloristico, che per noi è anche l'occasione per promuovere l'Europea, l'Europea del 2021 come grande evento, che ci tenga a sottolineare l'assessore Messina a Londra, addirittura in conferenza Enit, presentato come il grande evento regionale del 2021. Ma tutto questo è una sinergia, è un accordo, delle buone relazioni istituzionali che possono solo beneficiare al territorio. Quindi c'è l'intento di fare un buon lavoro per il territorio ed essere sempre più uniti in questa strategia di comunicazione non può che portare risultati efficaci e duraturi. Non è che stiamo eludendo i cittadini, no? No, i cittadini non mettiamo una mano in tasca ai cittadini, perché noi siamo completamente ospiti della regione siciliana. Addirittura pure il materiale promozionale che abbiamo raccolto, le brochure, le abbiamo spedite, siamo soltanto occupati di portarli in assessorato al turismo. Poi è stato l'assessorato regionale che le ha spedite a Milano. Quindi anche in questo abbiamo risparmiato. Il cookie show è organizzato a spese della regione, pagheranno loro i cuochi, pagheranno loro le cucine e tutta la manifestazione. Quindi veramente è una grande opportunità che non si poteva non cogliere. Poi è legittimo che alcuni comuni decidano comunque di andare comprando uno spazio individuale. Non entro nel metodo di queste scelte. Anzi, è importante, può essere solo rafforzativo, faremo sinergia, daremo il materiale Sicilio-Occidentale e noi promuoveremo il materiale del singolo comune. Ma l'ottica è assolutamente la collaborazione, la sinergia, perché noi ci crediamo tantissimo. E poi, per parlare del comune di Trapani, Trapani-Western-Sisili è uno dei punti fondamentali del programma di governo del sindaco Tranchida. e quindi non stiamo facendo altro che attuare quello che è stato l'impegno con i cittadini che lo hanno votato.